Io direi di partire allora così, a me piace essere molto precisa soprattutto sugli eventi online perché può dare un po' fastidio stare lì e aspettare fissando il monitor per ore e ore e ore. Noi ci siamo, io credo che Elisabetta Robotti non abbia in realtà bisogno di grandi presentazioni ma io la presenterò con piacere lo stesso. Ci tengo a dire che da molti anni si occupa di formazione insegnante a tutti i livelli ma moltissimo anche a livello di scuola primaria, infatti da moltissimi anni insegna a scienze della formazione primaria. Uno dei suoi interessi principali di ricerca e in questo mi sento accomunata a lei sono le difficoltà di apprendimento. Non ci parlerà nello specifico più di tanto di questi oggi ma tutto il suo lavoro è influenzato da questo e in particolare tutte le proposte inclusive come quella di cui ci racconterà oggi sono influenzate anche molto da questa sua ricerca. Collabora da molti anni con un gruppo di ricerca di cui ci parlerà anche lei ma ci tengo a dirlo anche io proprio perché sul sito di questo gruppo potete trovare anche vari materiali interessanti proprio anche per gli insegnanti. E si chiama Edoumat Vallée, Betta ce ne parlerà un pochino. Inoltre ha scritto un, mi piace prenderla un po' in giro ma è vero, fortunatissimo libro, frazioni sul filo, da cui credo prenderà, trarrà ispirazione per alcuni passaggi insomma di quello che ci racconterà oggi. Quindi è con estremo piacere che la ospitiamo qui ai nostri incontri dei lincei, mi sarebbe tanto piaciuto averla fisicamente appisa ora che è trasportabile però ancora ancora non si può, ma andremo spero, spero presto a pranzo e o a cena. Viaggi, quando i viaggi insomma saranno consentiti. Va bene Betta, io mi nascondo e modererò io, ecco noi avete visto anche Pietro Di Martino, ma mi occuperò per lo più io di moderare le domande. Come al solito scrivete nella chat le domande anche mentre Betta parla e faremo una pausa durante la sua presentazione per affrontare alcune delle prime domande se intanto ne sono uscite e poi avremo un'altra sessione di domande alla fine della sua presentazione. Grazie Anna per questa presentazione che non merito, c'è solo un problema, sono sparite le slide, ora non è che sia così fondamentale raccontare qualcosa di interessante sulle frazioni. Tanto benvenuti a tutti, grazie di questo invito, sono molto contenta di essere con voi virtualmente a Pisa, spero di venire presto a Pisa davvero. Abbiamo di nuovo tanta voglia di girare, di vedere le insegnanti personalmente, ho proprio voglia di rivedere persone, quindi ce lo promettiamo diciamo così. Allora questa sera vi racconto qualcosa su un'esperienza che è stata fatta da questo gruppo di ricerca di cui Anna vi ha già un po' fatto cenno. È un gruppo di ricercazione costituito da una trentina di insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle scuole medie. Si chiama Edumat Vallè perché è in Val d'Aosta, perché ho insegnato tanti anni all'Università della Val d'Aosta e quindi con loro ancora un legame affettivo. Il racconto di questo pomeriggio è il racconto di un percorso didattico che riguarda frazioni e per sviluppare questo percorso siamo partite da alcuni assunti teorici, alcuni punti della ricerca che per noi erano importanti per riuscire a pensare appunto a queste attività didattiche che poi sono sfociate nella pubblicazione dell'eccellente libro, no voglio dire mi prende in giro Anna ma va bene, si sono poi concretizzate nella pubblicazione di questo libro che si chiama Frazioni sul filo e che afferisce alla collana Artefatti Intelligenti. Prima di raccontarvi qualcosa su questo percorso ci chiediamo che cosa intendiamo per didattica inclusiva e poi semmai perché abbiamo scelto proprio frazioni. Abbiamo scelto di sviluppare un percorso didattico che fosse centrato sull'inclusione scolastica perché è uno dei nostri obiettivi principali, assumendo come definizione o come didattica inclusiva un processo continuo, cioè qualcosa di continuo vuol dire che non è limitato nello spazio, limitato nel tempo, ma che si spalma su tutta l'attività didattica e riguarda tutti. Che cosa vuol dire che riguarda tutti? Che non ci concentriamo solamente sui soggetti che hanno difficoltà ma su tutti i nostri soggetti della classe, cioè su tutti gli alunni della classe. Questo processo prevede l'abbattimento degli ostacoli e delle barriere che ne impediscono la piena partecipazione all'attività didattica e l'apprendimento di ognuno. Vuol dire che ciascuno è soggetto e oggetto di questo processo. E questa è una definizione che noi abbiamo preso da Dario Ianes e che ci aiuta a capire che quando parliamo di apprendimento, parliamo di apprendimento appunto per tutti e per ciascuno. Perché per ciascuno? Perché dobbiamo tenere in considerazione che in realtà noi tutti apprendiamo in modi diversi e quindi noi insegnanti dobbiamo offrire modi diversi di apprendere. E questo è un po' il punto di partenza, però che cosa osserviamo? Che tutti noi, nonostante apprendiamo in modi diversi, tutti noi apprendiamo perché siamo motivati a farlo. Ed è questo il primo punto. Perché impariamo? Perché impariamo? Perché è una cosa, riusciamo a impararla e magari altre ci passano più, un po' inosservate. Perché noi vogliamo imparare quella cosa lì? Perché siamo interessati a imparare quella cosa lì? E perché abbiamo bisogno di quell'informazione lì? Quindi l'aspetto motivazionale, che spesso per l'insegnante è un po' relegata all'iniziativa dello studente, si impegna lui, ti deve impegnare di più, in realtà è davvero il punto di partenza per una didattica inclusiva. Quindi gli aspetti motivazionali sono essenziali per l'apprendimento. È vero anche che non mi basta aver bisogno di un'informazione o di quella nozione matematica per poterla prendere. Non è sufficiente questo. Dipende anche, l'apprendimento di questa cosa dipende anche da come mi è stata data, da come mi è stata presentata questa informazione. Cioè da ciò che cattura il mio interesse, la mia attenzione, il modo in cui questa informazione mi è fornita. Perché per me è più comprensibile. Questo sicuramente avete in testa degli esempi, soprattutto con i soggetti in difficoltà. Dipende da come gliela raccontate. Quindi i modi diversi di rappresentare le informazioni sono, e fornire modi diversi di rappresentare le informazioni, quindi di registri di rappresentazione, è essenziale per ciascuno di noi. Perché in realtà ciascuno di noi ha dei canali preferenziali di accesso a queste informazioni. Quindi per esempio quello visivo, quello uditivo, quello tattile. Quindi dipende, come vi dicevo, molto da come io recepisco questa informazione, perché davvero riesco a elaborarla. E infatti poi ci possiamo anche chiedere come impariamo. Cioè mi posso anche chiedere come elaboro queste informazioni. Mi posso chiedere come riesco ad agire su questo sistema di rappresentazione con cui mi è stato fornito l'informazione per riuscire a risolvere il problema. Come comunico, con che registro riesco a comunicare ad altri che cosa ho imparato, o che cosa non ho imparato, o quello di cui ho bisogno. Quindi fornire diversi mezzi per comunicare e agire è essenziale per l'apprendimento. Ma quello di cui vi sto raccontando adesso sono di fatto tre principi. I principali principi dell'Universal Design for Learning, di cui trovate riferimenti qua, e questo è lo schema generale, che vuole fornire degli strumenti per riuscire a progettare attività didattiche, ma anche materiali, anche aspetti valutativi, strumenti valutativi, che siano il più possibile inclusivi. E allora per questo, per noi, questo è essenziale per riuscire a partire. Perché per noi l'inclusione è un elemento essenziale della nostra progettazione didattica. Un altro elemento essenziale nella nostra progettazione didattica riguarda i processi cognitivi. E questo ce lo dicono le neuroscienze. Ci dicono che i processi cognitivi sono multimodali e in particolare sono radicati nel sistema senso motorio del cervello. Vuol dire che quando io penso attivo una parte del cervello che è, come dire, parzialmente sovrapposta alla parte che è dedicata alle attività più percettive, più motorie. Quindi il fatto che questi processi cognitivi siano fortemente legati all'aspetto percettivo è essenziale per capire come procedere, come riuscire a costruire un pensiero, in particolare un pensiero matematico. Di più, come si diceva, queste attività sono multimodali, cioè si realizzano con diverse modalità che sono attivate contemporaneamente. Questo vuol dire che fare, toccare, muovere, vedere sono componenti essenziali nel processo di pensiero matematico. Ed è essenziale per noi utilizzare questa informazione per riuscire a costruire un'attività didattica che davvero sia efficace. Allora, a partire da questi assunti teorici o queste idee, noi abbiamo cercato di sviluppare un percorso didattico sulle frazioni, che fosse appunto il più possibile un percorso inclusivo e che riguardasse in particolare la scuola primaria, ma anche la scuola secondaria. Abbiamo visto, sono in fase di sperimentazione, ora in realtà nella versione nuova delle mie slide c'era anche un riferimento a un articolo molto interessante di Anna, che si è occupata proprio di un percorso su frazioni sfruttando l'idea di frazioni sul filo anche per la scuola secondaria. Quindi questo vuol dire che è un percorso che è nato per la scuola primaria, è vero, però ha dei ritorni evidenti anche per la scuola secondaria di primo grado, ma questo ne potremo discutere assieme. Adesso la domanda che ci possiamo fare è perché frazioni? Perché frazioni? Perché in realtà frazioni sono un contenuto matematico che fa emergere tantissime difficoltà a tutti i livelli scolari, cioè si spalmano proprio queste difficoltà, dai livelli diciamo iniziali a quelli appunto della scuola, magari della scuola secondaria. Fra queste difficoltà possiamo individuare la difficoltà nel gestire il significato di uguale. Per esempio se io vi chiedessi, dividi questo rettangolo in quattro parti uguali e lo dividessi in questo modo qualcuno storcerebbe il naso, perché in realtà il dividere in parti uguali è erroneamente assimilato a dividere in parti che siano congruenti, che siano sovrapponibili e non equiestese. E questa è una difficoltà che emerge spesso e continuamente, ma anche difficoltà nel passare da una frazione per esempio all'unità che l'ha generata. Di solito noi diciamo, prendi il rettangolo, dividila in quattro parti uguali, prendi la torta, dividila in quattro parti uguali. Ma non è un procedimento, come dire, usuale fare il contrario, cioè partire dalla fetta e dire qual è la torta che l'ha generata. Qui accanto vedete un item delle prove invalsi, dove si mostra un rettangolo e si dice questo è un quarto di un intero, disegna l'intero qui sotto. Vedete la parte azzurra e la parte di errori, ma vedete anche, quindi le risposte sbagliate, ma vedete anche che la parte gialla sono le risposte non date e sono davvero tante, significa che per i bambini a cui è stato dato questo item, questo item costituiva davvero un ostacolo, perché una risposta non data nei bambini più piccoli significa assolutamente l'incapacità di far fronte al problema. Altri tipi di difficoltà emergono, per esempio, quando riguardano le difficoltà a gestire le frazioni equivalenti, anche quando, per esempio, sono rappresentati con codici diversi, sintatticamente diversi. E qui vediamo, l'item chiede di identificare le frazioni che sono uguali e vediamo la parte gialla, è la parte delle risposte sbagliate, quindi questo è comunque un elemento di grande difficoltà. Difficoltà a ordinare le frazioni su una retta anche senza passare i numeri decimali. Questa è una cosa stranissima, sembra che le frazioni non abbiano dignità di numero e quindi per riuscire a piazzarle sulla retta ci sia necessariamente bisogno di trasformarli nei numeri con la virgola. Infatti gli item che possiamo trovare nelle prove invalsi spessissimo sono di questo tipo, perché spessissimo si ripresentano questi tipi di errori. E questo significa che mettere la frazione su una retta e ordinarla rispetto ad altri numeri crea davvero molte difficoltà, è la parte gialla che ce lo dimostra. O difficoltà a gestire le operazioni fa frazioni, per esempio, quando si identifica una regola che riguarda la moltiplicazione, e trasporre questa regola anche in un'altra operazione come quella della somma. Ma quest'idea di trasporre qualcosa che funziona da una parte in un'altra è una cosa che accade spesso, anche per esempio rispetto alle frazioni. Sappiamo che ogni numero naturale ha un successivo, una delle difficoltà è proprio quella di pensare che anche le frazioni e i numeri razionali abbiano un successivo, il che non è assolutamente vero. Quindi la difficoltà a saper collocare ciò che funziona in un certo dominio e non trasporlo in un altro. Oppure difficoltà a distinguere una frazione da un numero razionale, per esempio. Un'altra cosa che è stata messa in evidenza dalla letteratura, nelle slide ogni tanto vedete delle parti arancioni, sono dei riferimenti bibliografici che vi lascio se vi interessano. La letteratura, fra cui qualcosa scritto appunto da Anna, ci mette in evidenza una difficoltà legata al sistema sintattico delle frazioni e in particolare all'etichetta verbale con cui vengono denominate queste frazioni. Allora, se noi guardiamo questa frazione che c'è sullo schermo, tutti noi non abbiamo assolutamente dubbio nel dire che questa frazione è o la pronunciamo come due terzi. Pronunciamo come due terzi significa che leggiamo questa frazione dall'alto verso il basso. Ma quello che la letteratura ci dice è che in realtà in Oriente l'etichetta verbale di questa frazione è diversa. Si parte dal basso verso l'alto e si pronuncia di tre due. Quindi di tre parti ne prendo due. Questo di fatto è assolutamente più aderente alla procedura di costruzione della frazione intesa come parte di un tutto, cioè intesa come fetta della torta per intenderci. E il dire di tre parti, ne prendo due, rispecchia proprio la genesi della costruzione della frazione in termini di parte di un tutto. Mentre due terzi no. E allora ho cercato di andare un po' più a fondo su questa questione. Mi sono chiesta ma cos'è che stiamo confrontando. Stiamo confrontando due letture diverse. Una dall'alto verso il basso, la lettura diciamo occidentale, due terzi. Che media un significato ben preciso. È due terzi, due diviso tre. È un'operazione di divisione scritta ma non eseguita. Due terzi. Ma se io parto dal basso verso l'alto e leggo di tre parti due, allora il significato che io sto mediando con questa etichetta verbale è invece proprio l'idea di costruire una parte, un'unità frazionaria, a partire dall'unità di misura, dall'intero. E allora cosa succede? Succede che noi spesso, per ovvi motivi di cui magari faccio accenno tra poco, introduciamo la frazione proprio come parte di un tutto, cioè come parte di una torta divisa in parti uguali. Però il significato che diamo alla frazione, o perlomeno con cui introduciamo l'idea di frazione, è quella di parte di un tutto. Ma la etichettiamo, gli diamo un nome, due terzi, che in realtà rimanda a un altro significato, che è quella di divisione. Quindi chiamiamo qualcosa con un nome che rimanda a un'altra cosa. e questo è un cane che si morde la coda, un cortocircuitazione pazzesca, che i bambini in un certo senso sentono e probabilmente è portatore di grandi difficoltà. Quindi quello che si è capito è che in realtà, o perlomeno che avevamo capito fino qui, è che in realtà abbiamo associato alla frazione tanti significati. Quindi abbiamo una pluralità di significati associabili al concetto di frazione. Però la comprensione del concetto di frazione dipende dalla comprensione di tutti i suoi significati e anche dal collegamento di questi significati, gli uni agli altri. Ogni significato è espresso però da una rappresentazione, quindi io devo riuscire a gestire le rappresentazioni in modo tale che siano collegate ai loro significati. E allora quali sono i diversi significati di frazione attraverso i quali io riesco a costruire il concetto di frazione? Per esempio, se io considero la frazione due terzi, il primo significato di frazione è quello di parte di un tutto. Le diverse rappresentazioni che si possono usare sono di questo tipo, per esempio dividi il rettangolo in tre parti uguali, considera il matoncino, l'ego, dividilo in tre parti uguali, eccetera. Quindi il primo significato che si introduce è proprio quello di parte di un tutto. Poi abbiamo il significato di misura, quindi a partire da una certa unità di misura, trovare delle sottunità. Abbiamo anche la divisione, che è di fatto una divisione che è espressa ma non è eseguita. Poi abbiamo l'operatore, per esempio due terzi di dodici, due terzi dei bambini della classe vanno in gita, gli altri no, sono malati. E poi abbiamo l'idea, il significato di percentuale, la percentuale di limoni in questo cesto. Quindi di fatto abbiamo diversi significati di frazione. Non abbiamo solo il significato di frazione parte tutto. E questa era la prima idea che abbiamo messo bene in chiaro, che avevamo diverse cose da mediare, diversi significati da mediare. Ma per mediare questi significati dovevamo gestire molto bene le rappresentazioni e fare in modo che le rappresentazioni e i loro significati fossero davvero strettamente collegati. e allora si parte da quella che naturalmente è l'idea di frazione, l'approccio comune all'idea di frazione, quella di dividere un'unità in parti uguali. Ora, dividere una mela in due parti è qualcosa che i bambini molto piccoli, molto piccoli si intende due anni, due anni e mezzo, già gestiscono molto bene. Ed è anche per questo che si inizia a introdurre l'idea di frazione con il significato di parte di un tutto. Perché è qualcosa che nella nostra esperienza, anche di bambini piccoli, gestiamo bene. Introdurre l'idea di frazione come parte di un tutto è quindi il primo passo. Utilizziamo diversi modelli per fare questo, o modelli continui, mela, torta, cioccolata, pizza, o modelli discreti. Generalmente utilizziamo i modelli continui, preferibilmente, per mostrare, per dire che cosa intendiamo, per esempio con un mezzo di torta, cioè a metà torta, un quarto di torta, un ottavo di pizza e così via. Ma il problema che nasce nell'utilizzo di questo tipo di modelli è che la rappresentazione, quindi il modello stesso, non è così convincente, così solido, quando dobbiamo spiegare ai bambini cosa significa cinque quarti. Cosa significa cinque quarti? Cinque fette di quattro. Quindi se io ipotizzo, o considero questo cerchio come un modello di torta ipotetico, cosa dico normalmente ai bambini? Dico, beh, cinque quarti vuol dire dividere la torta in quattro parti uguali, e prendere, quindi identificare la dimensione di una fetta e prendere cinque fette. Peccato che nella torta ne ho solo quattro. E quindi si dice, si prende un'altra torta, si divide in quattro parti uguali e si prende la fetta che manca. Questa rappresenta cinque quarti. La mia domanda un po' provocatoria è perché non rappresenta cinque ottavi? In fondo io vedo otto fette e di queste otto fette ne prendo cinque. Questo mi convince. Ma come diciamo ai bambini che devono far finta che quelle fette della seconda torta non ci siano, devono contare solo quattro fette e però prenderne cinque? Perché e come riesco a dire un bambino che quella non è la rappresentazione di cinque ottavi? Probabilmente se fossimo in presenza vi chiederei alcune ipotesi. Posso provare adesso di chiedervi, a chiedere a qualcuno di voi, se ce l'ha, come giustificate nelle vostre classi il fatto che quella è la rappresentazione di cinque quarti e non di cinque ottavi? C'è qualcuno che si vuole lanciare? No, Anna, a te non vale. No, no, era solo per dirti che finora non ci sono domande e sto controllando la chat e comunque riescono anche a prendere la parola quindi va bene, ok. Forse qualcuno si è acceso, non lo so. Cioè qualcuno, ho visto una mano, però non riesco a capire. Vai, Anna Lisa. Sì, salve, buonasera. Buonasera, Anna Lisa. Buonasera. Dunque, io di solito prima di arrivare a questa situazione che in realtà appunto è densa di dubbi lavoro tanto sul concetto di intero cioè per cui con i ragazzi lavoro proprio sull'intero in modo che poi riescano a visualizzare i due interi che vengono ciascuno diviso in quattro parti. E però cosa facciamo? La mia domanda è diversa, Anna, Anna Lisa. La mia domanda è come, io sono la bambina sai, ce l'hai sempre una bambina un po' più rompiscatole io faccio la bambina a rompiscatole faccio la bambina a rompiscatole e ti dico io non so se insegni alla scuola primaria o alla scuola alla secondaria allora ti dico prof ti dico prof perché ti chiamano prof sicuro prof perché io non riesco a vedere perché quella non è cinque ottavi ma è cinque quarti perché quella rappresentazione lì non è cinque ottavi ma cinque quarti perché io vedo otto fette prof perché c'è un passo dal quattro quarti più un quarto ok ho capito faccio questi passaggi per cui in realtà è quello che abbiamo fatto anche noi sì sì allora hai un'altra giusto per dire così sentiamo un po' di opinioni hai Sara Sara Mariotti che ha alzato la mano Sara buonasera eccomi buonasera io insisto tanto sull'unità frazionaria quindi vedere il cinque quarti come un quarto più un quarto più un quarto più un quarto più un quarto perché è l'argomento più complicato e complesso da spiegare perché io insegno alla scuola secondaria di primo grado e spesso c'è chi subito li apprende e capisce al volo chi invece e capo le frazioni sono e quindi provo a partire dall'unità frazionaria sì e vederla come somma perché quella ma in realtà è così è così cioè l'unico modo per giustificare soprattutto la scuola primaria l'unico modo per giustificare questo tipo di rappresentazione dicendo non devi guardare queste fette è parlare di frazioni improprie è l'unico modo di giustificare altrimenti il modo di giustificare questo tipo di rappresentazione è proprio quello di cui mi avete parlato sia Annalisa sia Sara cioè quello di come dire prendere la torta dividerla in quattro parti uguali definire la dimensione della fetta quindi le altre fette come se non ci fossero spariscono non è quello l'importante definire la dimensione della fetta e prendere tante fette quante me ne servono come diceva Sara come diceva Annalisa quindi definire l'unità frazionaria e poi prenderne tante quante ne servono e questo è davvero l'unico modo per giustificare la rappresentazione di cinque quarti questa rappresentazione di cinque quarti che alla scuola secondaria funziona alla scuola primaria funziona cioè bisogna stare attenti perché se prendiamo utilizziamo che ne so la torta come modello perché perché è molto vicino al vissuto dei nostri bambini e poi gli diciamo che di fatto una volta che tagliano la torta in quattro parti le fette le devono buttare via e devono considerare solo la dimensione della fetta è una cosa che è lontana dal loro vissuto perché la torta non si butta se magna se mai ma non si butta quindi quindi sì e c'è il grosso problema soprattutto all'inizio quando si inizia a presentare le frazioni che questo tipo di modello ha nasconde quindi ha implicito questo tipo di difficoltà l'idea come dicevano sia Sara che Annalisa è quella di focalizzarsi sull'unità frazionaria di cui ora vi racconto e quindi noi cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di costruire un percorso didattico che utilizzasse diversi strumenti il primo strumento che abbiamo utilizzato è quello che noi abbiamo chiamato tovaglietta ora molto brevemente vi racconto anche perché l'abbiamo chiamato tovaglietta è di fatto un foglia 4 e l'idea è quella di trovare un'unità frazionaria come dicevano le nostre colleghe unità frazionaria che poi compongano il nostro foglia 4 a partire dal foglia 4 si è passati a una striscia di carta quadrettata quei quadretti da un centimetro abbiamo preso i fogli delle lavagne da conferenza quei blocchi giganteschi e poi ne abbiamo incollati abbiamo tagliato a striscia ne abbiamo incollate un po' in modo tale che venisse una striscia davvero molto lunga dove si sono costruite definendo una certa unità di misura le frazioni e questo è stato interessante perché oltrepassare l'unità di misura non è stato un problema su questo tipo di strumento per i bambini la striscia è stata anche rappresentata sul quaderno e poi la striscia si è appiattita sul quaderno quindi la bidimensionalità della striscia non era più così importante e abbiamo quindi rappresentato la retta dove abbiamo messo le nostre frazioni in ultimo abbiamo utilizzato uno strumento un filo di fatto un filo appeso in classe dove abbiamo appeso inizialmente con delle mollette poi con delle graffette insomma è stata elaborata la questione dei cartoncini con le frazioni e questo strumento invece ci è stato utile per definire i numeri razionali come classi di equivalenza e introdurre anche un po' l'idea del teorema di densità dell'insieme dei numeri Q questo l'abbiamo chiamato l'artefatto filo ora perché siamo partiti da quelle che abbiamo chiamato la tovaglietta la tovaglietta erano questi artefatti qua siamo partiti dalla tovaglietta perché è arrivato una lettera una lettera del pizzaiolo Nino alle nostre classi le classi erano o di terza o di quarta di quinta quindi i primi anni il primo la prima sperimentazione è stata fatta nel 2013 quindi capite bene che è stata ed è stata portata avanti quindi chi ha iniziato un terza ha fatto terza quarta e quinta chi ha iniziato un quarta ha fatto solo quarta e quinta chi quinta solo quinta ma poi si sono iterati ancora le cose comunque c'era questa lettera del pizzaiolo Nino il pizzaiolo chiedeva ai bambini di creare dei modelli di tovagliette quelle tovagliette segna posto per pranzare che avessero certe caratteristiche quindi che fossero della dimensione A4 che fossero colorati con dei pezzi che arrivavano da tovagliette e che fossero pezzi tutti uguali l'obiettivo era quello poi una volta ottenute le tovagliette anche di riprodurle riprodurle cioè costruire tante tovagliette la storia è finita che c'è stata la scelta di una tovaglietta in una classe l'hanno proprio costruita fisicamente la tovaglietta eccola qua è una tovaglietta plastificata proprio da pranzo non so come hanno costruita e l'hanno venduta e l'hanno venduta nel mercatino loro è vero che durante l'estate i bambini sono andati a cercare la pizzeria Averres di Nino quindi l'idea di fare qualcosa che davvero fosse qualcosa di concreto è stato fortemente motivante per i bambini e partiamo partiamo con il percorso didattico iniziamo con prendere un foglio a quattro e chiedere ai bambini di dividerli in parti uguali quindi c'è chi divide in due parti uguali c'è chi divide in quattro parti uguali in tre parti uguali quello che emerge subito è che non tutti i bambini dividono il foglio a quattro nello stesso modo per esempio dividono il foglio a quattro in quattro parti così o così e in due parti per esempio così o così e la prima cosa che dicono i bambini è ma qualcuno ha sbagliato allora la prima idea era di quella di confrontare queste forme quindi forme diverse attenzione ve la ricordate la prima difficoltà forme diverse che per ora rappresentano le stesse unità frazionarie e come abbiamo fatto beh semplicemente provando che l'estensione di un mezzo con una certa forma era uguale all'estensione di un mezzo con un'altra forma tagliando per esempio la punta di questo trapezio e ruotando quindi questo triangolo che viene qui sopra per mostrare che di fatto la superficie era la stessa quindi le unità frazionali sono superfici che sono equivalenti non necessariamente congruenti cosa è successo? una volta che è stato abbiamo convinto a tutti i bambini che le forme diverse non implicavano unità frazionale e diverse abbiamo deciso di associare a ogni unità frazionaria un colore e questo è un passaggio fondamentale soprattutto per i bambini in difficoltà ma solo dopo aver provato loro che le forme diverse corrispondono alle stesse frazioni e che le unità frazionarie si ottengono a partire dall'unità di misura che la nostra tovaglietta dividendole in parti uguali ogni classe sceglie un colore per esempio ma io dico per esempio qui abbiamo scelto un mezzo giallo un terzo verde un quarto rosso è importante perché questi colori verranno mantenuti sempre durante tutta l'attività in ogni classe quindi abbiamo preso dei fogli colorati giallo verde eccetera e abbiamo costruito gli un mezzi gli un terzi gli un quarti mettendoli vedete nelle scatole delle frazioni quindi avremo scatole con unità frazionarie colorate diverse ok questo a posteriori possiamo dire che il colore è stato di molto aiuto per i bambini con più difficoltà perché identificavano il colore con l'unità frazionaria per esempio il giallo con l'un mezzo e voi mi dite quindi salta il concetto di un mezzo no la forza di aver lavorato prima sul foglio bianco stava proprio lì e la cosa interessante è stata proprio questa che loro arriva che loro dopo aver aver costruito un mezzo sapendo che cosa voleva dire un mezzo cioè prendere un'unità di misura e dividere in due parti uguali allora è stato possibile associare il colore giallo altrimenti si bypassava il significato si prendeva solo il codice giallo quindi visivo senza la costruzione del significato ora con queste scatole abbiamo fatto tante cose per esempio abbiamo giocato prendendo due terzi cioè due pezzi da un terzo o prendendo cinque terzi cioè cinque pezzi da un terzo il fatto di e questo lo dicevano bene le nostre colleghe Annalisa e Sara il fatto di riuscire a lavorare con le unità frazionarie non come dire riusciva a bypassare l'idea di dover etichettare una certa frazione come una frazione impropria per poter esistere per poter esistere a questo punto abbiamo tante scatole con tante unità frazionarie colorate l'idea è quella di chiedere ai bambini di procedere con come dire col prototipo delle loro tovagliette e quindi abbiamo chiesto loro di ricoprire un foglio a quattro con tanti pezzetti colorati quelli che riuscivano a fare e le tovagliette che hanno prodotto sono davvero tante davvero piene di fantasia sono l'idea era quella che in questo modo si riesce a partire dall'unità frazionale a ritornare all'intero che era una delle difficoltà che emergevano diciamo nelle nostre indagini il passaggio successivo è stato quello di non o meglio di tradurre in linguaggio simbolico quello che era stato costruito in modo percettivo quindi identificare e dire in linguaggio simbolico che quel prototipo questo prototipo era fatto da un pezzo da un mezzo più due pezzi da un ottavo più no era questo due pezzi da un ottavo più un pezzo da un quarto o questo era fatto non ci vedo tanto da altri pezzi come la maestra è riuscita a dire a a produrre questo questa espressione un'espressione simbolica lo vediamo qua quindi un pezzo da un ottavo più un ottavo più un quarto più un quarto è uguale a uno cioè uguale la nostra unità di misura ci siamo sino qui ci sono domande betta qualche cosa da prima però te la faccio dopo non ci sono su questa cosa va bene poi mi fermi tu Anna sì sì tu fai la pausa diciamo quando sei pronta a fare domande raccogliamo domande intanto ricordiamo a tutti che se ne vogliono fare io le raccolgo e quando sei tu pronta a fare una pausa ce lo dici e se ce ne sono te lo dico e poi arriviamo in fondo va bene d'accordo benissimo come vedete i prototipi sono stati tanti cioè hanno prodotto tanti tipi di tovagliette e hanno ragionato anche tanto su l'interpretazione del modello concreto in termini simbolici per esempio l'interpretazione di questo primo foglio era che un ottavo più un ottavo più un quarto qui c'era questo che è come dire e questo lo dicevano chiaramente i bambini è come dire maestra prendere un pezzo da un quarto più un pezzo da un quarto quindi vuol dire che davvero questa uguaglianza è una relazione che mostra l'uguaglianza fra questo tipo di espressione che noi traduciamo in questo sistema di rappresentazione concreto in quest'altro tipo di rappresentazione che d'altra parte è uguale anche a questo quindi è uguale a un pezzo da un mezzo quindi si sommano pezzi di frazione e si traduce si traduce il modello concreto in il linguaggio simbolico ovviamente questo perché l'idea era come vi dicevo utilizzare diversi sistemi di rappresentazione non solo quello concreto di manipolazione concreta ma anche una rappresentazione sul foglio oltre che una rappresentazione simbolica quindi è stato chiesto ai bambini di rappresentare questi prototipi sui loro quaderni in sostanza questo è stato un lavoro interessante perché non era un lavoro di copiatura ma di riduzione anche in scala che ha posto parecchi problemi perché dovevano scegliere la buona dimensione le buone unità di misura per rappresentare il foglio a quattro sul loro quaderno abbiamo tentato di lavorare anche sull'aspetto percettivo sempre per mostrare come la forma non corrisponde al come dire non è la forma che che induce che indica l'unità frazionaria forme diverse possono essere associate alla stessa unità frazionaria questo è qualcosa che va maturato nel tempo non so come dire e bisogna creare situazioni perché i bambini riescono riescano a maturarlo nel tempo in modo più spontaneo possibile per esempio con un gioco questo si chiama il gioco uno e mezzo il gioco uno e mezzo sono delle carte dove di forma rettangolare divise in parti uguali in quarti in sesti in ottavi con forme diverse ci sono due giocatori chi tiene il mazzo di carte e chi chiede una carta l'obiettivo è che girando più carte si arrivi esattamente a uno e mezzo non di più non di meno per esempio in questo caso si gira la prima carta e la prima carta corrisponde a un mezzo poi si chiede un'altra carta e l'altra carta che viene girata è questa e corrisponde a un quarto si chiede un'altra carta e questa corrisponde a un altro quarto anche se ha una forma diversa e quindi siamo a uno un quarto più un quarto fa un mezzo più un mezzo fa uno bene girando queste carte puoi arrivare a ottenere esattamente uno e mezzo oppure superare per esempio un e mezzo se si supera un e mezzo si è perso se se vi interessa questo gioco potete trovare nel sito di edumat che il cui link è in una delle prime slide di questa presentazione trovare le carte neutre non colorate perché i colori li devono fare i bambini e poi voi le plastificate voi le plastificate così i bambini ci possono giocare un e mezzo eravamo un e mezzo dopodiché abbiamo il confronto diciamo delle unità frazionare come confronto di pezzetti di carta ed è abbastanza chiaro percettivamente chiaro che più che l'unità frazionaria è piccola tanto più io ho diviso l'unità di misura in diverse parti quindi un dodicesimo chiaramente più piccolo di un mezzo e questo è chiaramente forzato è costruito questo significato proprio perché l'azione è stata quella di piegare o di tagliare più volte e questo ci ha aiutato molto a superare una delle difficoltà che vi avevo di cui vi avevo raccontato per esempio quello di trasporre a certe regole che funzionano in un dominio in altre in in altri domini per esempio dire che siccome dodici è più grande di due un dodicesimo sarà più grande di un mezzo per esempio ma direi che un paio di slide e poi mi fermerei ma ancora il problema era ancora un po' solo parzialmente risolto perché ancora non avevamo convinto i bambini che questa rappresentazione qua proprio questa era la rappresentazione di cinque quarti e non cinque ottavi proprio questa non prendi cinque pezzi da un quarto ma proprio questa rappresentazione e così cosa abbiamo fatto vi mostro come abbiamo fatto allora supponiamo che questa sia la tovaglietta prototipo scelta per il pizzaiolo Nino Nino ha chiesto di produrre nove tovagliette come il prototipo quindi noi dobbiamo produrre nove tovagliette uguali a questa cosa faremmo noi se dovessimo fare questa tanto per cominciare ci prepariamo i pezzi rossi e ci prepariamo i pezzi blu per preparare i pezzi rossi possiamo prendere un foglio a quattro rosso dividerlo in otto parti uguali e prenderne un ottavo uno di queste poi prendo un altro foglio rosso divido in otto parti uguali e ne prendo un altro ottavo così ho i due ottavi che mi permettono di costruire la prima tovaglietta e così itero il procedimento per tutte le nove tovagliette questa non è una strategia che sicuramente viene adottata né da noi né dai bambini che sanno che si devono comportare in modo da risparmiare il più possibile il materiale didattico e allora dicono bene a noi servono due pezzi da un ottavo per nove tovagliette quindi mi servono diciotto pezzi da un ottavo allora prendono scusate allora prendono io vi vi porto il loro disegno non le foto perché così ce l'avevo tutto in un'unica immagine prendono un foglio a quattro rosso lo dividono in otto parti uguali e dicono con questo abbiamo otto pezzi da un ottavo poi prendono un altro foglio rosso lo dividono in otto parti uguali e dicono beh con questo abbiamo altre otto parti da un ottavo e con quello di prima facciamo sedici parti però ne servono ancora due perché noi ne servono diciotto e allora prendono un altro foglio rosso lo dividono in parti uguali e ne prendono solo due degli ottavi e quindi quello che loro rappresentano è questo sul loro quaderno e quello che loro scrivono è 18 ottavi cioè questa è la rappresentazione di 18 ottavi il fatto che ci siano questi pezzi in più non è in alcun modo considerato un elemento da rappresentare da considerare dentro la frazione cosa che invece col sistema delle torte che è la stessa rappresentazione ma la giustificazione di questa della necessità ecco vi dicevo la necessità di avere quella quantità di unità frazionarie e il modo non solo il modo in cui le costruisco e agisco sulla rappresentazione che giustifica il tipo di etichetta sintattica cioè simbolica 18 ottavi questo e quanto allora in questo modo abbiamo chiuso diciamo l'attività con quella che abbiamo definito la tovaglietta e poi siamo passati a un altro strumento quello della striscia perché il problema era andare oltre l'unità di misura e già un po' qua l'abbiamo intuita ti recupero qui allora mi fermerei qua perfetto due commenti di prima adesso vediamo se ne arrivano altri così puoi un attimo rispondere allora c'era Giulia Fasano che aveva scritto un po' ancora quando avevi fatto la domanda prima sui quarti e gli ottavi e dice ma non potrei rappresentare solo un intero diviso in quarti e poi i quarti di fetta e chiedere da dove viene l'altro quarto e di rappresentare l'intero allora spero di aver letto decentemente la domanda ok e giusto te li dico diciamo tutti e tre così puoi recuperare e ribadire ancora diciamo questo a cui hai disposto però anche alla luce di questi commenti Damiana Sforzi invece che insegna alla scuola secondaria di primo grado dice io uso i numeri misti e li scompongo e questo forse era uscito meno diciamo anche dalle altre disposte e Rita scrive invece perché rappresentare proprio la torta e su questo adesso un pochino hai risposto hai parlato qui di tovaglietta e tra poco ci parlerà in realtà di un altro artefatto quindi diciamo questo credo che anticipi bene anche quello che succederà poi allora ti lascio la parola e controllo vedo un'altra mano alzata vedo esatto una mano alzata io ne vedo solo una però allora perché la torta sì la torta detto fra noi detto fra noi siamo 163 ma vabbè detto fra noi a me non piace tantissimo perché ve l'ho detto ha un sacco di è pesante poi da gestire ma la tovaglietta non è così concettualmente diversa dalla torta l'idea della tovaglietta che secondo me è più riusciamo più facilmente a portare a una rappresentazione e a risolvere questo tipo di problema con la con la tovaglietta è proprio questo il fatto che poi lo vedete già un po' qua il fatto che poi le tovagliette concettualmente possono essere messe una vicino all'altra ecco poi l'idea della striscia in modo tale che non ci sia poi un limite fisico cioè l'unità di misura non sia più un limite fisico ma sia un'idea più concettuale l'idea di unità di misura replicata tante volte quanto voglio ecco l'idea di striscia rispetto e se ho ben capito uso questa rappresentazione per rispondere a una di voi dire tu hai quattro fette da un quarto più una fetta da un quarto se mai ti puoi porre il problema da dove arriva questa fetta da un quarto sì io vedo questo tipo di ragionamento più aderente a questa rappresentazione l'idea che a lei è esattamente quella di prendere un'unità frazionale e replicarla cioè quella che ci hanno raccontato prima Annalisa e Sara sì se posso dire il cinque quarti se commento questa qui la vedo come cinque volte un quarto in questo senso quindi cinque fette cinque fette esatto è proprio questa ma se io parto quindi prendo un quarto lo replico un quarto più un quarto più un quarto più un quarto che è quello che accade prendendo le scatole delle frazioni e dalle scatole delle frazioni un quarto prendo cinque pezzi da un quarto diverso è partire dall'unità di misura quindi non lo chiamiamo torta la chiamiamo tovaglietta partire dall'unità di misura come rappresento con quella quel modello lì cinque quarti perché bisogna fare i conti bisogna fare i conti nel nei due sensi cioè dall'unità di misura costruire delle unità frazionarie quindi dal tutto costruire la parte ma anche come suggerite voi dalla parte costruire il tutto quindi dalle unità frazionale dalla scatola degli un quarto arrivare a prendere cinque pezzi da un quarto perfetto allora la mano alzata è di Angela cui darei la parola sì buonasera sono sono insegnante di scuola primaria e ho acquistato il libro per cui ho già messo in atto insomma la parte consigliata nel secondo quadrimestre di una classe terza perché ho due classi terze sì e vabbè ho avuto un ottimo riscontro delle attività portate avanti però mi ha colpito non ho interrotto prima anche se non è propriamente su questa linea cioè così come la striscia si assottiglia e diventa il filo diciamo come insomma si dimostra che il tuo mezzo non è sbagliato perché diverso dal mio ma riusciamo a capire insieme che sono equivalenti ed equestese eccetera immaginavo di dover incentivare l'abbandono l'abbandono dei colori che in qualche bambino è vero che ovviamente aiuta moltissimi i bambini che hanno più difficoltà però ho notato che già qualche bimbo mi dice maestra posso evitare non ho la matita gialla posso questo mezzo lo posso colorare di blu e io l'avevo inteso come ok è proprio pienamente acquisito so che tanto è un mezzo anche se non lo associo più al giallo a differenza del bimbo con difficoltà che invece mi dice o meno rischia di dirmi ancora se non è giallo vuol dire che non è un mezzo e quindi perché il consiglio di lasciare i colori anche più avanti no almeno non era inteso così era così guarda in questi termini lasciare che i bambini utilizzino il colore o utilizzino qualsiasi altro tipo di artefatto fino a che ne hanno bisogno ok allora è chiaramente allora così come sta accadendo naturalmente nel senso siccome continuiamo a ripetervi l'unità di misura nel nostro caso è la 4 ma se andiamo in giardino e dobbiamo dividerlo con l'altra classe possiamo utilizzare solo un mezzo di questo nostro spazio non troveremo lo spazio di metà foglio a 4 è un po' quello che riusciamo a continuiamo a ripetervi perché si eviti proprio il vincolo giallo un mezzo verde un terzo cioè che all'inizio sì sì Angela sono concordo ed è per quello che tutta l'attività è iniziata con dei fogli bianchi sì perché siccome mi stava già succedendo temevo che invece avrei dovuto mantenere rigidamente il colore invece non è così no a mio avviso io ok allora avevo capito male avevo capito che si consigliava di usarlo sempre questa associazione si consiglia di non proibirlo ok sì 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 chiarissimo è il contrario grazie mille Anna posso dire una cosa perché su questo fremo non avrei detto niente però diciamo Angela mi ha alzato la palla su questo ecco quella del colore è veramente una questione delicata a mio avviso io ho sempre un pochino contestato Betta su questo aspetto del libro e a mio avviso la cosa il motivo per cui servono diciamo i colori in questo approccio è perché c'è questo riferimento all'unità che è sempre la stessa che è la tovaglietta ed è talmente sempre la stessa che viene sottintesa e questo secondo me è quello che c'è di problematico quando invece rimane solo la frazione tipo adesso sulla tovaglietta c'è un ottavo non si capisce più di che cosa e si trovano poi sui quaderni anche qualcuno di quelli che abbiamo visto che ci ha fatto vedere Betta un rettangolino con scritto un ottavo ma non si sa più di che cosa e mi chiedo Betta quindi questa è anche un pochino una domanda per te perché invece per contare abbiamo preso una linea diversa spingendo molto di più prima proprio sull'idea di numero in misura e poi eventualmente anche a frazione come area però mi chiedevo se secondo te sarebbe possibile invece che insistere sullo stesso colore insistere sulla stessa scrittura una scrittura del tipo su ogni pezzettino un ottavo t per ricordare il t che è proprio quella tovaglietta che è proprio quel foglio a quattro e ci metto quella scritta cioè quel un ottavo t su tutti i pezzi che sono da un ottavo anche di forma diverso allora è vero che a colpo d'occhio se io vedo tutti i rossi e sono nel contesto tovaglietta con quell'unità di misura ecco che non sbaglio perché so che sono gli ottavi ma mi chiedevo se secondo te è bypassabile questo aspetto del colore con una una scrittura allora in realtà vorrei risponderti almeno in due modi con due idee diverse è vero che il colore funziona quando tu hai sempre l'unità di misura che è la stessa in questo caso è la tovaglietta ora vediamo come far variare l'unità di misura e come gestire il significato di un mezzo un ottavo qualche è variando l'unità di misura però questo avviene su un altro strumento che è la striscia il problema è sorto e poi ricordami di rispondere precisamente sul colore il problema è sorto anche con le tovagliette cioè coi pezzi di fogli a quattro tanto per intenderci perché se io prendo un pezzo di foglio a quattro eccolo qua il mio pezzo di foglio a quattro e ti dico che questo è un mezzo sì ma ti posso anche dire che questo foglio a quattro è un terzo questo è uscito ora io non ve l'ho raccontato perché mi sembrava troppo ma poi sapete che si si selezionano le cose sempre sbagliate quando si fa una presentazione ma non si sa chi sia davanti anch'io non avrei detto niente se non ci fosse stata la domanda però i bambini è uscito fuori questo problema no è uscito fuori questo problema ed è stato posto in un modo molto interessante è stato preso un quadratino quadratino di quaderno e gli han detto questo qua è un trentaseiesimo e anche un quarantacinquesimo com'è sta storia e i bambini sono arrivati a dire certo ha la stessa forma questo è vero che ha la stessa forma però bisogna vedere da dove parti e i bambini ti dicono attenzione perché è da dove parti che dipende quello che tu vedi con ciò non ti ho risposto sul colore allora il colore hai ragione è un elemento davvero molto davvero molto utile per i bambini molto in difficoltà il rischio è che fosse molto fuorviante per i bambini non in difficoltà cioè che alla fine si adagiassero sul fatto che quello è rosso quello è giallo e quello è blu in realtà a noi non è capitato in modo così incisivo cioè nessuno sceglieva il rosso ma tutti sceglievano un quarto io non so se siamo stati molto fortunati è vero che è una roba che dura dal 2013 adesso ed è stata fatta in Val d'Aosta e anche in altre parti probabilmente se posso dire avete bravissimi insegnanti che quindi lavorano bene su tutto il discorso intorno a questo perché alla fine non è la parolina rosso un ottavo che ma è il discorso che si costruisce intorno non mi verrebbe la cosa lì e quella cosa lì con quella costruzione lì che noi possiamo chiamare etichettare in quel modo lì secondo me la cosa interessante del colore non è il colore rosso nella tovaglietta è il fatto un ottavo un ottavo è rosso nella tovaglietta perché vuol dire prendere la tovaglietta e dividerla in otto parti uguali un ottavo è rosso sulla striscia perché l'unità di misura si divide in otto parti uguali un ottavo è rosso sulla linea dei numeri perché rappresenta un ottavo quello che se non ti ricordi cosa vuol dire vuol dire la tovaglietta è questo che hanno fatto i bambini cioè e qui anticipo un attimo ma poi lo dico meglio quando loro quando il bambino in difficoltà stendeva metteva le frazioni su una linea dei numeri sul quaderno quelli più in difficoltà per sapere dove mettere un ottavo ora mi riferisco a questo prendevano la matita rossa ricordavano non la striscia molti ricordavano la tovaglietta e a partire dalla costruzione dell'ottavo sulla tovaglietta riuscivano a costruire l'ottavo sulla linea dei numeri ma facendosi sempre facendo sempre riferimento allo strumento più adeguato per loro il colore era solo un richiamo alla memoria non so come dire però la costruzione doveva essere ripetuta solo che ricostruivano proprio un ottavo e non un quarto perché il ponte lo faceva al colore ok va bene però come tutte le sperimentazioni non è il Vangelo non è oro quello che dico né la verità assoluta sì no perché per contare invece non usiamo colori e non stiamo notando difficoltà di questo tipo però anche è vero che è un po' invertito il percorso insomma quindi basta va bene grazie infinite e allora ormai sei pronta a proseguire perché ci hai già anticipato il vado 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 striscia la striscia di carta come vi dicevo erano strisce di carta quadrettate dove si definiva una certa unità di misura cioè si si decideva che l'unità di misura era di tot quadretti e poi si costruivano su queste diverse strisce dove si erano definite per esempio le stesse unità di misura diverse unità frazionarie quindi per esempio un mezzo un terzo un quarto un ottavo e così via quindi la prima idea era stata quella di chiedere ai bambini di dividersi a gruppi di scegliere una striscia di definire l'unità di misura che gli veniva data e poi ogni gruppo doveva rappresentare una diversa unità frazionaria le strisce venivano appese alla lavagna e i bambini iniziavano a fare dei confronti percettivamente in modo percettivo un mezzo è più grande di un terzo è più grande di un quarto e così via e quindi l'idea di come dire si richiedeva di usare una procedura dove il significato di frazione poteva anche essere quello di misura perché c'era la distanza dallo zero uno è distante sei quadretti dallo zero d'altra parte costruire la frazione di me sì l'elemento crudo potrebbero fare l'aricotto perché se avessi sbagliato aspetta la c'è di mutare ecco fatto vai scusami io penso sempre che mi vogliono chiedere qualcosa allora quindi abbiamo sei quadretti ma se io costruisco un mezzo di fatto sto chiedendo alla frazione di agire come un operatore cioè chiedo cioè cerco di costruire un mezzo dell'unità frazionaria quindi per esempio un mezzo di sei un mezzo di sei di sei quadretti sarebbe tre quadretti o un terzo di sei quadretti che è due quadretti va bene e così abbiamo introdotto anche un po' quest'idea ma la rogna è quella che avete messo in evidenza voi e che ha messo in evidenza Anna cioè il costruire l'unità frazionaria dipende dall'unità di misura che tu scegli e allora si si distribuiscono ai gruppi di bambini le strisce si chiede ai bambini di definire ciascun gruppo un'unità di misura e poi di costruire un mezzo quindi ognuno sceglie un'unità di misura diversa ma tutti costruiscono un mezzo e l'insegnante dice cosa accade secondo voi perché mai i pezzi non sono uguali perché questo mezzo è diverso da questo è diverso da questo ora io credo che l'immagine non sia chiarissima e allora vi ho riprodotto questo qui sotto perché questo mezzo è diverso da questo è diverso da questo e si avvia una discussione di classe il bambino dice un bambino dice forse abbiamo sbagliato questo chiaro e l'altro dice non abbiamo sbagliato io sono proprio sicuro di aver piegato a metà l'unità per cui è un mezzo attenzione di aver piegato vedete che questo bambino qua agisce in modo concreto questo è un suggerimento di lettura quando si diceva agire in diversi modi dare la possibilità di agire in diversi modi altri avrebbero contato ha fatto la metà dei quadretti l'insegnante chiede chi è d'accordo con questa affermazione e tutti concordano certo perché hanno tutti segnato un mezzo allora salta su un altro bambino e dice però non dobbiamo guardare la lunghezza cioè quanto è lungo un mezzo perché ogni gruppo ha scelto un'unità di misura diversa attenzione perché la parola unità di misura loro la utilizzano perché è entrata nel vocabolario comune della loro classe e allora l'insegnante chiede allora perché con le tovagliette i mezzi erano tutti uguali con quella tovaglietta perché le tovagliette del pizzaiolo cioè i fogli a quattro per intenderci erano tutti uguali vabbè dice l'insegnante anche la strisce che vi anche le strisce che vi ho consegnato erano tutte della stessa lunghezza cioè delle strisce non le unità di misura è proprio le strisce fisiche come dire stanno proprio mischiando l'oggetto dal concetto l'oggetto unità frazionale unità di misura tovaglietta che è l'oggetto finito con l'unità di misura sulla striscia che invece è una parte della striscia quindi è molto subdola diciamo secondo me come intervento quello dell'insegnante quindi diceva in fondo le strisce quelle che mi ho dato erano pure loro tutte uguali sì dice questo bambino ma poi ognuno ha scelto un'unità di misura diversa il mio gruppo aveva unità di misura 24 quella dei nostri vicini era molto più corta sì infatti c'era un'unità lunghe e unità corte dice qualcun altro vabbè ritorniamo dice la maestra alla domanda iniziale perché stavolta i mezzi non sono equestesi non sono uguali perché dice il bambino terzo quello che insiste sull'unità di misura fare un mezzo è tagliare a metà quindi se le unità sono diverse le metà sono diverse e infine la maestra chiede se sono tutti d'accordo il bambino il primo che ha parlato dice stavolta dobbiamo stare proprio attenti perché per capire quale vale di più non possiamo sovrapporre come abbiamo fatto con le altre tovagliette cioè in questo caso l'aspetto percettivo non funziona più quindi loro per riuscire a dominare l'azione devono necessariamente dominare il concetto cosa vuol dire un mezzo di un mezzo dell'unità di misura cos'è l'unità di misura quindi il confronto sulla base percettivo non funziona più e hanno bisogno di lavorare fortemente sul concetto magari forse qua non so Anna ma se ci se ci sono delle domande se ho risposto alla tua come alle altre domande e perplessità non ne vedo non mi stanno arrivando io sono molto soddisfatta non ti non ti chiedo altro non ti chiedo altro poi da qui faccio una parentesi perché non le ho messe nelle slide però da qui qualcuno ha detto sì ma lo stesso ragionamento lo possiamo fare con i pezzi di tovaglietta e allora la maestra qualcuno ha usato proprio i pezzi di carta ha detto questo qua può essere un mezzo e contemporaneamente un terzo perché e altre hanno organizzato un'attività didattica con i quadrettini sul quaderno come vi dicevo prima quindi c'è il problema da dove si parte era sentito è chiaro che queste strisce ci hanno permesso di rappresentare frazioni anche maggiori di uno e quindi non c'era il problema di dover prendere altre torte altre unità di misura semplicemente si replicava il mattoncino unità di misura tante volte quanto si chiedeva se poi si andava oltre come in questo caso dei cinque terzi l'unità di misura non importa si va oltre e si va oltre quindi il modello supporta una rappresentazione del tipo suggerita da Annalisa e Sara somme di unità frazionaria la striscia viene usata per tante cose per esempio per visualizzare le frazioni equivalenti vi ho messo un po' di foto perché secondo me le foto parlano più di mille parole e poi la striscia viene rappresentata sul quaderno bene a un certo punto la richiesta delle insegnanti è stata questa io le insegnanti hanno chiesto ai bambini di rappresentare su una stessa striscia sul loro quaderno un terzo un sesto un ottavo un mezzo e un quarto a me sembrava una richiesta un po' pesantina ma allora mi hanno detto lascia fa cioè la domanda era complessa perché gli hanno detto disegna una striscia non gli hanno detto quale unità di misura prendere nella quale sulla stessa striscia puoi rappresentare queste frazioni e allora i bambini hanno iniziato per tentativi e errori a prendere delle unità di misura per esempio hanno preso che ne so come unità di misura 12 era una buona unità di misura per rappresentare un terzo per rappresentare un mezzo per rappresentare un quarto per rappresentare un sesto ma non un ottavo caspita questo un ottavo era un po' fuori e quindi hanno iniziato a scegliere l'unità di misura in quadretti per tentativi ed errori e l'hanno trovato un'unità di misura che fosse buona per rappresentare su questa striscia su quest'unica striscia tutte queste frazioni ed era 48 però i bambini si rendono subito conto che 48 teoricamente funziona perché poi se andate a prendere i quaderni a quadretti ecco i quaderni a quadretti questi qua voi capite che 48 quadretti qua non ci sono e allora i bambini capiscono che devono ragionare in modo diverso ci sarà un numero più piccolo che funziona bene e vanno ancora per tentativi ed errori e lo trovano questo numero più piccolo è il numero 24 quindi arrivano a dire che questo qua è il numero più piccolo che funziona per tutte cioè che è divisibile per tutti questi per tutti questi denominatori quindi hanno trovato il minimo comune multiplo di 2 3 6 8 4 non per tentativi ed errori sia chiaro nessuno l'ha chiamato minimo comune multiplo ma hanno detto che è il più piccolo numero di quadretti di unità di misura che si può prendere perché vada bene per rappresentare tutte queste frazioni di fatto hanno costruito il minimo comune multiplo che è un'idea che forse può essere certamente credo sviluppata in maniera più consistente per la scuola per le medie ecco superiore il primo grado io mi confondo sono vecchia medie e facciamo prima quindi hanno costruito il minimo comune multiplo come vi dicevo per rispondere anche ad Angela è vero in questo caso la striscia rappresenta tante frazioni sulla stessa striscia ma ancora vengono utilizzati i colori in altri altri compagni di questa stessa bambina non utilizzano i colori perché non ne hanno bisogno non hanno più bisogno di pensare a quello che hanno vissuto costruendo un quarto rosso in qualche modo cioè o con la tovaglietta o con la striscia per riuscire a rappresentarlo qui sopra ormai è un quarto costruito come una parte delle quattro in cui ho diviso l'unità misura e qui un po' per rispondere anche ad Anna volevo dirti che di fatto questo colore non è non si è sostituito a un quarto non so come dire qui per esempio prendo un mezzo verde non si è sostituito il verde a un mezzo ma il verde richiama nei bambini più in difficoltà la storia non so come dirti proprio la storia e non necessariamente la stessa storia ma ma la costruzione corretta di un mezzo mi spiego per qualcuno per i soggetti di SA più severi richiama sempre la tovaglietta quasi sempre la tovaglietta cioè cosa è accaduto per costruire un mezzo con la tovaglietta per altri la striscia per altri la linea o la rappresentazione della striscia sul sul quaderno altri proprio come come vi mostro non hanno proprio più bisogno dei colori non gli servono i colori e non hanno neanche più bisogno della bidimensionalità della striscia perché il fatto che una volta che hanno identificato che a loro non serve tutto ecco a loro non serve colorare tutto ma serve solo questo punto qua voi lo vedete il mio cursore che si muove no il cursore no madonna devo spiegarlo verbalmente oddio questo registro di rappresentazione mi ha assolutamente allora puoi gesticolare ma non grazie gesti gesti brava Anna brava io l'ho sempre detto allora supponiamo di voler rappresentare questo oggetto qua che è la rappresentazione che trovate a sinistra del vostro schermo che cosa è successo per esempio devono rappresentare un mezzo quindi prendono la striscia l'unità di misura la dividono in due parti così come hanno fatto finora dovrebbero colorare tutta questa parte di verde sì poi per rappresentare che ne so un quarto dovrebbero colorare tutta questa parte di azzurro vuol dire che questa parte colorata sia di azzurro sia di verde e i bambini se ne sono accorti subito che questo non funzionava veniva un gran pasticcio perché si sovrapponevano i colori allora cosa hanno detto ma a noi non serve colorare tutto questo spazio a noi ci serve sapere dove mettere un mezzo cioè la distanza da zero quello è la posizione di un pezzo e hanno segnato la stanghetta diciamo con la targhetta un mezzo la stanghetta di un quarto con la targhetta un quarto a quel punto hanno identificato la posizione non tutto lo spazio ci stiamo staccando dalla tovaglietta dalla striscia ci interessa la posizione e a quel punto avendo la posizione non ci interessa neanche più che questa striscia sia bidimensionale basta anche che sia unidimensionale diventa una retta e la posizione di un mezzo è un punto su questa retta ecco come è accaduto il passaggio dalla striscia rappresentata alla retta sul quaderno e come molti bambini abbiano perso l'interesse di continuare a utilizzare i colori perché non avevano più senso per loro i colori ma non tutti non tutti questo questo voglio dire perché per alcuni ancora l'idea di verde li aiutava a richiamare nella loro mente il significato di un mezzo vedete per esempio io vado un po' veloce sulla anche Angela ti ringrazia ha detto perfetto è chiaro grazie è chiaro grazie Angela sulla sulla fase di lavoro sulla retta vado un po' veloce tanto per esempio qua vedete che hanno abbandonato completamente il colore anzi hanno utilizzato solo per distinguerli percettivamente il rosso per i numeri interi e il blu per le frazioni ma poi non c'era una regola era solo perché percettivamente per loro riuscivano a identificare meglio gli interi io arriverei a quello che se non ci sono altre domande perché passo un altro artefatto non ce ne sono va bene va allora l'ultimo artefatto che abbiamo utilizzato è un filo banalmente proprio un filo appeso appeso in aula come vedete qua c'è questo è proprio il primo prototipo di fila appeso in aria insomma in aula e qui dietro se vedete ci sono le strisce dove peraltro i colori non ci sono però vabbè vedi che qua proprio colori non ce stanno si vede che a loro non servono non c'è capito vai vai ma non ti voglio mi perdoni per aver usato ogni tanto mi piace va bene insomma adesso vi racconto come sono nati questo filo non è stato semplice allora tanto per cominciare abbiamo questi sono i prototipi proprio mi piace mi piace portare l'origine allora abbiamo deciso dopo un po' che si lavorava su quest'idea di appendere proprio sul filo i cartoncini con le frazioni il filo rappresenta una retta ideale avevamo bisogno di mettere in evidenza i numeri interi in modo tale da identificare bene l'unità di misura e allora abbiamo deciso che i cartoncini dei numeri interi sarebbero stati bianchi e quadrati invece quelle delle frazioni più rettangolari poi per appendere le frazioni sul filo abbiamo utilizzato ma tante robe tipo i gancetti per le palline di natale i gancetti quelle vabbè li vedete ma quelli che funzionano meglio ve lo dico sono quelli da mantovana i ganci da mantovana questi qua bianchi fantastici perché riuscite a scorrerli ma poi restano mantengono la posizione l'idea qual è stata quella di dire ai bambini fissiamo una certa unità di misura cioè 0-1 e poi come gioco ogni mattina alcuni bambini dovevano appendere delle frazioni per esempio un mezzo sta più o meno a metà è chiaro che qui lavoriamo sulla percezione più o meno a metà fra 0-1 un quarto sta più o meno a metà fra 0-1 e un mezzo e un terzo sarà più o meno a tre parti tra 0-1 ma per esempio se io appendo tre sesti vuol dire che divido in sei parti uguali questa lunghezza quindi questa unità di misura e ne prendo tre e finisco finisco nello stesso punto in cui finisce un mezzo ecco allora l'idea di agganciarlo sotto un mezzo perché doveva stare lì nello stessa posizione e quindi costruiamo come dire quelle che vengono definiti i bruchi delle frazioni cioè tante frazioni una attaccata all'altra e poi vediamo perché quello che è chiaro subito è che questo gioco permette di ordinare le frazioni o meglio tra 0 e 1 ordinare le unità frazionarie ma anche poi frazioni quindi oltre voglio dire oltre l'uno quindi non solo unità frazionarie questo voglio dire per esempio eccolo vedete tre mezzi che cosa accade dicevo che a un certo punto i bambini costruiscono questi queste strisce come possiamo dirle queste catene di frazioni e le chiamano bruchi bruchi delle frazioni la maestra insomma si inizia una discussione didattica su che cosa una discussione matematica su che cosa sono questi bruchi delle frazioni e i bambini dicono che sono tutte frazioni che dovrebbero stare nello stesso punto di un mezzo e perché dovrebbero stare nello stesso punto di un mezzo perché in effetti prendendo di sei di sei parti tre o di otto parti quattro corrisponde allo stesso punto guardando invece l'espressione sintattica tre sesti e quattro ottavi loro dicono che hanno questa caratteristica queste frazioni è vero che corrispondono allo stesso punto è vero che come sovrapporre vi ricordate quelle prime slide un ottavo più un ottavo più un quarto è come dire un quarto più un quarto e questo loro capiscono questo quindi l'equivalenza come sovrapposizione ma hai l'equivalenza anche sulla striscia di carta e hai l'equivalenza sul sul filo perché corrispondono allo stesso punto guardando dicevo l'espressione proprio tre sesti si accorgono che i numeri sopra il numero sopra e sotto cioè il numeratore e il denominatore vengono moltiplicati per una stessa quantità per esempio per tre sesti tre sesti viene moltiplicato a partire da un mezzo si ottiene moltiplicando tre il numeratore e tre il denominatore oppure quattro ottavi lo ottieni moltiplicando lo stesso numero il numeratore e il denominatore che è quattro e così ti dicono è facile costruire anche sul quaderno cioè come linguaggio simbolico le frazioni che stanno in quel bruco lì però in questo bruco che è una classe loro dicono è una classe perché loro la intengono come gruppo di persone ecco è una classe di frazioni che sono tutte equivalenti loro sanno che tre sesti equivalenti a quattro ottavi perché l'hanno vissuto l'hanno visualizzato e costruito sulla striscia sulla tovaglietta dicono è una classe di frazioni che sono tutte equivalenti in questa classe però c'è una capoclasse loro la chiamano la capoclasse cioè la frazione generatrice un mezzo è la capoclasse ed è la capoclasse perché il numeratore il denominatore non li puoi dividere fra loro ora che siano non mi hanno detto sono primi fra loro però mi hanno detto che non si possono dividere fra loro quindi in fondo mi hanno dato una caratterizzazione se non una definizione di frazione generatrice che loro chiamano capoclasse la cosa interessante è tutto il discorso che è venuto fuori su ma cosa ci sta in questa classe di equivalenza ci stanno tutte le frazioni equivalenti alla capoclasse e quante saranno le frazioni equivalenti alla capoclasse beh se loro le pensano soprattutto se loro le pensano con la caratterizzazione basta moltiplicare sopra e sopra nella stessa quantità ma anche pensando e arrivando a una strazione di divisione alle tovagliette per esempio loro dicono che potenzialmente tu ce ne puoi mettere quante ne vuoi in questa in questo bruco attenzione ai termini che uso perché uso proprio i termini che loro usano in questo bruco di frazioni io ci posso attaccare tutte le frazioni che voglio cioè tutte le frazioni equivalenti quante ne voglio anche infinite hanno detto anche infinite l'importante che siano tutti equivalenti alla capoclasse e quindi che siano appese tutte a quel punto lì a quel punto del filo in buona sostanza in termini non certo rigorosi ma abbiamo dato un'idea di cos'è un numero razionale un numero razionale inteso come classe di equivalenza di frazioni quindi un insieme infinito di frazioni tutte equivalenti a una frazione generatrice che loro chiamano capoclasse ci sono domande su questo? quindi abbiamo ne abbiamo una che è proprio pertinente a questo e Lorena chiede se i bambini hanno già fatto esperienza di frazioni equivalenti prima del filo o se lo scoprono qui e no dicevo che l'idea di frazione equivalente è stata costruita in tutti gli artefatti precedenti per esempio nell'artefatto tovaglietta vi ricordate che avevamo per esempio aspettate se avete un attimo di pazienza ve lo mostro eccolo qua per esempio questa attività mostrava che di fatto due pezzi che ne so da un quarto sono equivalenti a un mezzo perché potrebbero essere sovrapponibili si sovrappongono e occupano lo stesso spazio d'altra parte due pezzi da un ottavo più un pezzo da un quarto oppure due pezzi da un ottavo formano un pezzo da un quarto quindi l'idea di equivalenza qui ma anche ma anche sulle ecco ci mancava solo che non mi funziona più lo scroll ma anche sulle strisce dov'è che potrebbero essere frazioni equivalenti non lo so per esempio qui non c'è rappresentato però pensate una frazione una frazione equivalente sulla striscia che ne so tre sesti e un mezzo sullo striscia poi alla fine occupano lo stesso spazio quindi davvero occupano la stessa la stessa porzione d'altra parte ne abbiamo viste ecco qua ne abbiamo viste di la rappresentazione della striscia con delle frazioni che sono equivalenti vedete che piano piano ci spostiamo da l'idea di frazione equivalenti in modo molto concreto proprio tangibile di costruzione di azione a qualcosa che è sempre più vicino alla posizione di un punto sulla linea dei numeri ho risposto sì solo io Lorena avevo chiesto questa cosa proprio non tanto per il fatto dell'equivalenza come dimensione della striscia perché pensavo alle mie classiche in una secondaria di primo grado l'idea proprio sul fatto dell'equivalenza tra le strisce ci arrivano cioè proprio le piegano le vedono anche disegnando che vogliono dire la stessa cosa quando però vi manca poi il passaggio non riesco probabilmente farli passare alla retta cioè loro mi avrebbero sicuramente detto sul filo che non potevano metterla dove c'era un mezzo perché era un posto come già un caso quindi come si fa a fargli ma non capisco aspetta perché ecco se se prendiamo questa immagine io non so se ti sto rispondendo cerco delle immagini che riescano a supportare quella della stessa di carta dalla striscia dalla striscia io rappresento sulla striscia quindi divido l'unità di misura in parti uguali ne prendo tante quante mi dice il numeratore e ottengo per forza la stessa partizione che ne so un mezzo e tre sesti arriveranno nello stesso punto quindi saranno probabilmente a me manca questo passaggio una cosa che va tenuta molto in considerazione e che si pensa sempre che una variabile poco importante nell'attività didattica ma questo io credo su tutti divini è tempo non tutti abbiamo lo stesso tempo non tutte le classi hanno lo stesso tempo ma vale sempre la pena perdere tempo per guadagnarlo mi spiego se per Lorena bisogna stare tanto sulla striscia per consolidare quest'idea di frazioni equivalenti ci stai perché poi lo guadagni dopo lo guadagni dopo nel costruire le frazioni equivalenti non più con un modello concreto ma con un modello più sofisticato che è quello aritmetico moltiplicare sopra sotto per n sopra sotto capisci numeratore denominatore per la stessa quantità d'accordo quindi secondo me io non sono nella tua classe non posso giudicare ma a spanne direi tempo al tempo cioè se loro hanno bisogno di tempo per consolidare questo sulla striscia lasciali il tempo perché vedrai che poi passano più velocemente sul resto non so se Anna è d'accordo sulla questione tempo ma io ci credo molto è che fa un po' paura le insegnanti assolutamente e molto spesso un pochino di tempo in più su qualche cosa che magari apparentemente sembra una perdita ma è un approfondimento un intreccio con altri significati è tutto tempo guadagnato più avanti ovviamente sei investito bene questo non significa che bisogna stare per sempre su una stessa cosa però approfondirla e dare il tempo che serve per connettere un certo concetto magari nuovo con altre cose magari fatte prima o che stiamo vedendo in parallelo è assolutamente anche secondo me tempo guadagnato per dopo e sì perché poi lo guadagni dopo dopo non devi insistere con 8000 esercizi moltiplicare numeratore denominatore per la stessa quantità perché per loro quello è uno strumento non è il significato capito diventa uno strumento per riuscire velocemente ottenere frazioni equivalenti ma non è il significato di frazioni equivalenti e poi e poi è successa una cosa bella allora voi dovete pensare che questa attività ecco prendiamo questo questa attività di appendere le frazioni sul filo veniva fatta tutti i giorni tutti i giorni c'erano sti bambini che volevano appendere queste frazioni sul filo ora capite che dopo un po' lo spazio fra 0 e 1 si satura cioè non c'era proprio più spazio materiale per mettere queste cose e allora la maestra ha chiesto e mo come facciamo non possiamo più appendere frazioni e i bambini dicono ma no non è che non possiamo più apprendere frazioni zoomiamo cioè allarghiamo cambiamo l'unità di misura rispostiamo tutto una cosa certosina perché non so se vi ricordate le prime foto queste sono quelle facili ma le prime foto c'erano tantissime frazioni appese quindi risistemare tutto in funzione della nuova unità di misura e poi possiamo appendere altre frazioni così è accaduto si allargava si riempiva e poi si saturava e cosa si faceva si riallargava si ricreava spazio fra due frazioni e quindi si riempiva poi si saturava non c'era problema si riallargava pensa tutto il tempo che perdi si riallargava si ricreava spazio fra due frazioni e si poteva appendere ora questa è proprio l'idea di infinito attuale e che mi permette di spiegare ai bambini che di fatto fra due frazioni fra due frazioni io posso sempre mettercene fra due numeri razionali posso sempre mettercene un altro perché almeno a metà della distanza fra questi due sicuramente ce n'è uno poi quindi fra questi due sicuramente ce ne sta un terzo e fra questi due sicuramente ce ne starà un altro fra questi due sicuramente ce ne starà un altro ora questa metafora dei gesti con le mani a un certo punto però non funziona più perché le mie mani si toccano ma quest'idea di aver iterato tanto tempo l'allargare e il posizionare ha proprio mediato in loro l'idea che potenzialmente questa cosa può essere fatta all'infinito quindi gli ha dato un modello mi viene da dire mentale per immaginare quello che è un infinito attuale cioè la possibilità di pensare sempre a un terzo numero fra due terzo numero razionale fra due che media non è perfetto ma un po' l'idea del teorema di densità dell'insieme Q e che scardina quell'idea per la quale ciò che vale per i numeri naturali può valere anche per gli altri numeri cioè che ogni numero ha un successivo ogni numero naturale ha un successivo sì ma non funziona questa frase diciamo questa proprietà in un altro dominio come quello dell'insieme dei numeri Q perché che ne so 5 qua il successivo di 5 quarti non è certo 6 quarti o il successivo di 0,6 non è 0,7 se vogliamo rappresentarlo in altro modo quindi l'idea del filo mi ha permesso di sistemare l'ordinamento fra frazioni e le frazioni equivalenti ma anche di introdurre un po' l'idea di numeri razionali e anche di densità dell'insieme dei numeri razionali ci sono domande perché mi avvio nella fase conclusiva direi di no Betta puoi andare la mia idea è ma è stato davvero un percorso inclusivo perché poi uno se le fa queste domande ha funzionato davvero come percorso inclusivo se sì perché possiamo dire che è un percorso inclusivo beh innanzitutto possiamo dire che abbiamo utilizzato tanti strumenti mettiamoci qua abbiamo utilizzato tanti strumenti quindi tante rappresentazioni diverse degli stessi elementi matematici nel nostro caso delle stesse frazioni e abbiamo visto che in effetti questo ha consentito a ciascuna di poter lavorare su queste espressioni su queste rappresentazioni in modo da costruire consolidare quel concetto che cosa vuol dire che davvero l'azione che i bambini facevano per costruire un'idea per esempio l'azione per costruire un mezzo sullo strumento foglio di carta quattro erano diverse per esempio il piegare o il tagliare quindi erano azioni diverse ognuno come dire costruiva l'idea di un mezzo e richiamava l'idea di un mezzo in modo diverso perché era impresso nella sua memoria e associato al significato diversamente ma tutti hanno avuto la possibilità di costruire un mezzo e questo ha consentito loro anche di esprimersi in modo diverso per esempio di poter dire che un mezzo è equivalente a due a due quarti perché se prendo un pezzo da un mezzo non mi ricordo se era Lorena ma un pezzo da un mezzo o prendo due pezzi da un quarto li sovrappongono li sovrappongo in effetti funzionano ma posso dire anche che è evidente che un mezzo è equivalente a due pezzi da un quarto lo vedo sulla striscia d'altra parte li posso concettualizzare che un mezzo equivalente a un quarto perché li aggancio nello stesso mezzo equivalente a due quarti scusa perché li aggancio nello stesso punto quindi di fatto dico la stessa cosa con azioni ed espressioni diverse e richiamo quel senso con l'azione che è stata per me più significativa per costruire quel senso lì e questo è possibile solo se io do ai bambini diversi strumenti e diversi modi di agire con essi perché se avessi dato solo l'espressione simbolica avrei tagliato fuori tutta una fetta di mimbi che hanno costruito invece il senso di frazioni equivalenti con altri strumenti la parte più importante secondo me riguarda l'aspetto motivazionale è vero che l'utilità e la rilevanza dell'apprendimento è stata percepita dai bambini perché il contesto era significativo per loro era significativo per loro costruire quello che stavano costruendo perché l'idea del pizzaiolo Nino era qualcosa che davvero li ha portati a una ragione di quello che stavano facendo non era solo questo ma anche questo anche l'idea di ottimizzare l'autonomia per esempio bambini ottimizzano l'autonomia quando riescono a svolgere un compito da soli e per quello che ne so che utilizzavano riuscivano a riempire la tovaglietta con mezzi diversi con pezzi diversi con unità diverse in modo autonomo questo voglio dire e anche sostenere lo sforzo a lungo termine che è uno dei problemi soprattutto per i bimbi in difficoltà focalizzando l'attenzione su quello che devi fare quindi per esempio io devo poter riempire una una tovaglietta di unità frazionari allora prendo i prendo i diversi pezzi che mi servono e poi leggo la somma utilizzando per esempio i colori senza dover ricostruire la frazione l'unità frazionaria quindi dico che un mezzo che un quarto più un quarto è un un mezzo perché leggo rosso più rosso uguale blu ma dico un quarto più un quarto c'è anche una forte elemento di autoregolazione quindi se avessi riempito il foglio a quattro con pezzi che non mi davano come somma una lo vedevo perché uscivo fuori dalla dalla tovaglietta c'è anche un controllo dal punto di vista emozionale per esempio gli aspetti del gioco il gioco un e mezzo ha agito in questo senso allora per questo credo che che possa essere considerato un percorso con delle caratteristiche di inclusione e quindi ci riteniamo soddisfatti almeno del punto di partenza perché non si arriva mai non si è mai a un punto di arrivo in didattica si è sempre a un punto di partenza ma ci sembra un buon punto di partenza forse c'è una domanda io ho finito comunque Betta grazie infinite adesso ne stanno arrivando diverse allora te le dico nell'ordine visto che mi sembrano tutte molto molto pertinenti e belle e intanto complimenti a tutti per le belle domande e grazie soprattutto a Betta penso che tu sia stata davvero efficace e super interessante come sempre allora una prima è di Cristina Palla te la leggo e poi se Cristina vuole aggiungere o fare precisazioni può fare lei chiede come hanno fatto i bambini a trovare una frazione tra un'unità frazionaria ed un'altra ad esempio tra un mezzo e un terzo sul filo questa è la domanda Cristina sì sul filo sul filo perché loro costruivano in base all'idea di parte di un tutto allora sul filo hanno definito più o meno l'unità di misura ti dico più o meno e faccio a gesti per capirci allora l'unità di misura cioè 0 1 era questa distanza qua allora dire un mezzo significa prendere questa distanza e più o meno dividerla a metà ecco quindi qua verrà posizionato un mezzo invece per posizionare un terzo dicevano bene allora questa deve essere divisa più o meno in tre parti uguali allora più o meno un terzo verrà messo qua non era come dire se tu cerchi la precisione in questo no 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 la mia domanda era per la densità dei numeri come facevano a trovare una cazione facevano così facevano così e a volte cioè come ti dicevo a volte usavano le informazioni che avevano già acquisito cioè sapevano che che ne so che tre mezzi doveva essere dopo uno e più o meno a metà cioè ovviamente la densità dei numeri se prendiamole ma forse mi stai dicendo sono molto concentrati verso lo zero insomma rispetto al proprio sulla densità mi vuoi chiedere proprio sulla densità è stato un lavoro certosino da pazzi scusa no volevo dire un lavoro certosino che che solo una maestra ci può credere glielo facevano fare tantissime volte cioè capisci che quando velocemente poi si si satura lo spazio fra 0 e 1 soprattutto se 0 e 1 come dici tu tutto poi si condensa un po' lì e allora allargavano capito come facevano e il lavoro certosino stava nel fatto di riposizionare tutto ti sto rispondendo l'impressione io l'ho capito cioè si lasciava più spazio ma se io uso solo frazioni unità frazionarie poi comunque sia lo metto tra l'ultima trovata e lo 0 invece tra un terzo e un mezzo come hanno fatto a trovare le loro le frazioni cioè con i molti unità frazionari non capisco tanto perché allora loro non non le sceglievano loro le frazioni se questa è la domanda ma ecco allora se fosse pensare forse sta chiedendo date due frazioni ma secondo me non è una consegna che avete dato Betta lei dice tra due frazioni tipo un mezzo e un terzo qual è la frazione che sta nel mezzo oppure quali frazioni posso trovare nel mezzo o come faccio a trovarne almeno una che sta nel mezzo è questa la domanda no cioè loro non decidevano non trovavano frazioni che stavano fra un mezzo fra un terzo e un mezzo era la maestra che gli dava le frazioni da appendere ho capito quindi non hanno calcolato non so come dire non hanno fatto non è che qualcuno hanno preso coscienza del fatto che sempre che sempre si poteva fare come trovarle era un altro discorso ma questo non è stato affrontato ma il fatto che ci fossero sì se posso dire alle medie dato che è uscito con diciamo l'analogo condensato del percorso proprio di frazioni sul filo che insomma pesantemente ispirato a questo che abbiamo fatto con un progetto didattica della matematica inclusiva con i prase con Federica Poli che credo non sia con noi stasera però spesso c'è lì qualche volta è uscito anche se diciamo non si batteva tanto su questo però mi pare che in qualche classe sia uscita la questione e allora prendevano un modo di farlo diciamo che però hanno inventato loro quindi non si dava nessun algoritmo diciamo un metodo di calcolo insomma per farlo era di prendevano un'unità frazionaria piccola piccola non so prendo un sedicesimo e lo prendo tot volte fino a superare un terzo fa conto ma non fino a un mezzo quindi con i multipli di altri è un trazionario esattamente ok abbiamo altre domande sì voglio solo dire una cosa voi poi datele le slide vero Anna sì ecco allora vi ho mandato una seconda versione lo dico semplicemente perché nella seconda versione avevo citato questo articolo a cui hai fatto cenno tu il tuo della Lisarelli e della e della Poli dove c'è questa questa analisi di frazioni in modo inclusivo sulla scuola secondaria ve lo metto subito nella chat ah ecco brava eccolo lì poi dicevi l'altra domanda allora un'altra domanda è di Lucia che chiede vorrei chiedere se al filo si attaccano anche i numeri decimali e in quale momento affrontare l'equivalenza ad esempio è tra un mezzo e 0,5 ecco io lo sapevo non credo di averci messo queste slide eh lo so ma mi sembrava una domanda proprio opportuna perché lo sai che cosa possiamo fare dicelo a voce è impossible ci posso provare allora in realtà ci siamo poste questa domanda e per passare dalle frazioni ai numeri decimali l'idea è stata quella di prendere eh di pensare alla frazione come un una divisione espressa ma non eseguita allora abbiamo fatto costruire una tabella ai bambini dove c'era una prima colonna e una prima riga con tutti i numeri da uno a nove sulla prima riga e sulla prima colonna e poi gliel'abbiamo fatto incrociare in modo che costruissero eh la prima riga numeratore denominatore numeratore denominatore numeratore denominatore e così via eh in buona sostanza hanno costruito tutte le frazioni mh senza perderne nessuna tutte le frazioni che hanno come numeratore uno e denominatore da uno a nove tutte le frazioni che hanno come numeratore due e denominatore da uno a nove E poi gli abbiamo detto, bene, adesso che avete sta tabellone mostruoso, per ogni frazione provate a fare con la calcolatrice la divisione e mettete il risultato. E' successo che loro stessi hanno visto che, per esempio, lo 0,5 ricorreva nella tabella un certo numero di volte e ricorreva negli incroci di particolari frazioni e sono andati a vedere quelle frazioni e hanno scoperto che erano tutte le frazioni equivalenti a un mezzo, per esempio. Questo è stato un modo per mostrare che i numeri con la virgola derivano dalla frazione, nel senso che sono l'espressione, l'esecuzione di quella divisione che viene espressa ma non eseguita. A dire il vero, alcuni hanno iniziato ad appendere a quel punto, alle frazioni sulla retta, sul filo, un retro, quindi a scrivere sul retro del cartoncino un mezzo 0,5. E questo è quello che è stato fatto. Non siamo andati oltre. Forse Anna ha fatto di più. Allora, forse non è il caso di raccontarlo ora, abbiamo un'ultima domanda e poi credo dobbiamo un pochino andare verso la conclusione. Allora, volevo farti quella di Damiana che chiede, all'inizio si faceva riferimento a diverse scritture, frazioni decimali e percentuali come mostrato nei problemi invalsi. Chiedo, potrebbe essere efficace attaccarli sul filo alle frazioni corrispondenti o numeri decimali corrispondenti alla scuola media o potrebbe creare un po' di confusione? Ma se partiamo dal presupposto che sono rappresentazioni diverse dello stesso oggetto, quindi che rimandano a significati diversi ma sono comunque rappresentazioni diverse dello stesso oggetto, possiamo dare a tutti dignità di numero. Quindi il 50% direi che ci può stare su una retta. Ti ho risposto Damiana? Sì. Sì, grazie. Era proprio quello che mi ha fatto venire in mente quando, seguendo la lezione, partendo appunto da queste prove invalsi, dai loro errori. L'importante secondo me è mostrare che è la stessa cosa. Ok. E che sono numeri, se posso dire, perché il 50% per tanti non è un numero. Ah no, 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 mi dicono io non sto facendo frazioni, sono già le percentuali. Sì, è vero. È un'espressione tipica, no? Scusami, scusami Damiana, di lì. No, no, giusto, giusto, sì, l'ho sentita anch'io questa espressione. No, no, ma no, io non sto facendo, sono già le percentuali. E caspita, sono la stessa roba. Che sono numeri con dignità di stare su una retta. Grazie. Grazie a te. Perfetto, quindi insomma la regia mi comunica che sta arrivando il momento. Bene. Ecco, non so se in extremis mi sembra che non ci siano più mani alzate. E sono davvero, davvero contenta di questa sessione. Ecco, adesso arrivano i grazie. e Betta te li puoi... Prego, 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 prego. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Quindi, quindi grazie infinite. Betta ci ha già mandato, ma ci manda semmai una nuova versione, se vuole. Magari ci puoi mettere quest'ultima con i numeri decimali, quest'immagine che hai raccontato. Sì, la aggiungo, certo. Perfetto. Quindi io ringrazierei tantissimo e ricordo che c'è ancora un incontro di questo ciclo e basta, dopodiché per quest'anno è andata così. Vediamo se l'anno prossimo riusciamo a vederci di persona. Sarebbe una... Ma se vi vedete di persona vengo, eh. Beh, ti rinvitiamo. Racconto quello che volete, ma voglio venire a trovarmi. Perfetto. Allora, un grazie infinito. Grazie a voi. Grazie a voi e a tutti di essere rimasti sino a quest'ora con noi. Grazie davvero. Quasi tutti, Betta, sono rimasti fino alla fine, quindi direi benissimo. Grazie. Arrivederci. E alla prossima.